Cioè ragazzi il Napoli meritatissimamente è passato in vantaggio ma voglio un attimo vedere se è finita la partita dell'Inter perché anche l'Inter è finita ragazzi l'Inter ha vinto Quindi zitta zitta l'Inter prima in classifica assieme al Barcellona a 6 punti ma soprattutto anche il Napoli che all'ultimo zitti che forse ne fa un altro mamma mia ancora attacca il cross No è stato sbagliato vabbè 1 a 0 con il Liverpool ma meritatissimo Hi this is Gabo man a youtuber in formato Champions League versione altre squadre però perché ieri ovviamente ho fatto il post partita della Roma ma italiane in Champions League stasettimana che stanno veramente a pallettoni Napoli che ripeto sicuramente ha fatto una partita incredibile Liverpool che se non sbaglio non ha mai tirato nello specchio della porta proprio del Napoli E Napoli appunto che qualche occasioncina da rete sicuramente l'ha creata sicuramente ha fatto molto di più rispetto a Liverpool Non li ha fatti attaccare Liverpool che non è mai riuscito a ripartire in contropiede a sfruttare la sua arma migliore ossia la rapidete dei suoi attaccanti Ragazzi Ancelotti è di un fenomenale ma non è che lo sto a scoprire io se sa che Ancelotti è un grandissimo allenatore e che avrebbe onorato la Champions League nel migliore dei modi Detto questo 4 punti per il Napoli primo in classifica quindi Inter prima in classifica Napoli primo in classifica perché prende 4 punti Secondo c'è sia Paris Saint Germain che Liverpool a sto punto perché il pareggio non è riuscito a portarselo a casa E adesso a livello non solo di morale ma anche proprio a livello di punti che ha attualmente in Napoli potrebbe tranquillamente ambire a passare alla fase degli ottavi di finale in poi Capite bene quello che sto a dire no? Comunque stiamo parlando di una squadra che oggi ha dimostrato tantissimo Credo che anche il Paris Saint Germain potrà temere questo Napoli ma il Paris Saint Germain avrà paura anche e soprattutto di un certo Carletto Ancelotti Che lo ripeto oggi ha dimostrato quello che significa arrivare ad una squadra, cambiare modulo, cambiare modo di giocare perché Sarri giocava in tutta altra maniera E a riuscire addirittura ad ottenere più risultati in Champions League di quello che non ha fatto Sarri Sarri che in campionata ha fatto 91 punti, 91 punti, non è che stiamo a parlare di pizza e fichi o di caccole ragazzi non stiamo a pettinare le bambole Detto questo veramente è una prestazione assurda, io l'ho guardata tutta ovviamente la partita, ho visto un po' meno l'Inter perché ero più interessato a questa di partita Da quel che mi è stato detto, vabbè l'Inter che passa in svantaggio con il del PSV e poi la ribalta Al gol di Nainggolan mi hanno detto che era in fuorigioco, pazienza se non mettono il VAR questo è Però da quel che ho visto perché per qualche tratto insomma ho girato L'Inter sicuramente ha creato più occasioni del PSV Però il PSV che a un certo punto della partita sull'1-2 dell'Inter targato Icardi ha preso un palo E mi pare ha fatto una rovesciata con un giocatore che Andanovic ha neutralizzato Quindi insomma PSV che ogni tanto ha provato a mettere piede nell'area dell'Inter ma non è riuscita ad agguantare il pareggio Comunque Inter che ha creato un'ottima mole di occasioni da rete, vittoria in trasferta sicuramente importante Ma anche per l'Inter si mette sicuramente bene perché con due vittorie, ripeto, sale a 6 punti insieme al Barcellona Lasciano Tottenham e qual è l'altra squadra? A 0 Tottenham e PSV scusate A 0 e quindi anche le possibilità dell'Inter da outsider e da squadra di quarta fascia di passare agli ottavi di finale Sicuramente aumentano le scienze perché tutti mi sono mangiato troppo gelato Come se sta a diabetizzare qua il cervello non ci sto a capire più un cazzo Mi fate sapere che cosa ne pensate nei commenti Questa è una notte magica per le italiane ma ci voglio aggiungere anche ieri sera Juventus e Roma Che comunque hanno fornito sicuramente delle prestazioni all'altezza Lasciatemi un piacere su questo video Ariano andiamo a continuare con il model can Commentate, condividete, iscrivetevi che ne hai ancora non l'avete fatto E detto questo complimenti a tutti Complimenti a tutti perché cominciamo a farci rispettare anche in Europa Secondo me non solo l'Inter ma anche il Napoli Quest'anno possono dire realmente la loro in UEFA Champions League Mamma mia che bello il calcio comunque ragazzi miei Ciao